Oggi è una bella giornata percorrere, andiamo? La bella giornata percorrere, andiamo? La bella giornata percorrere, andiamo? Non vado bene, mi fa male il ginocchio, forse è meglio che mi fermi per un po'. Adesso speriamo che mantenga il tempo caldo così possiamo andare per funghi. Questo ponticello l'abbiamo costruito tre anni fa, però è forte ma è meglio stare attenti. Ultimo chilometro, anzi no, un chilometro e mezzo. Tre centimetri siamo arrivati. Arrivati. Il fiume. Ho faticato un po' per il ginocchio ma ce l'ho fatta. Credo che devo fermarmi per qualche tempo così notte non va bene. Grazie. 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 Grazie.